buongiorno siamo da steppo siamo da steppo perché oggi vi faccio sentire il rullante che ha incuriosito molti di voi che è un 14 per 6 e mezzo in dog di noce canaletto o americano con una pelle di capretto montata da sottoscritto oggi è pasqua per cui presumo che sia il giorno perfetto per fare questa prova e abbiamo un mio caro amico maestro che ci farà sentire un po chi sono di questa battaglia prego maestro grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie maestro